Un processo penale su tre si prescrive. Molti reati, cosiddetti minori, ma che influiscono sulla qualità della vita delle persone, truffe, lesioni e scippi restano impuniti. All'indomani della firma del patto per la sicurezza a Napoli con il ministro dell'interno Lamorgese, il presidente della Corte d'Appello Giuseppe De Carolis lancia l'allarme nel corso della conferenza stampa che precede la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. I numeri sono preoccupanti. Nel distretto di Napoli ci sono circa 200 pm, ma solo 240 giudici e dovrebbero essere almeno 400. I reati sono in crescita ovunque. Il procuratore generale Luigi Riello ha spiegato che dopo il lockdown si registrano più omicidi volontari, colposi e stradali, più tentativi di omicidio, lesioni, furti e violenze sessuali. A Napoli e provincia in particolare si registra un aumento dei reati del 9,43%. Il numero dei delitti è aumentato anche in provincia di Caserta del 5,08% e in provincia di Avellino da 4.977 a 5.295 reati e in provincia di Benevento si è saliti da 5.200 a 5.430. Ma il peggio deve ancora arrivare. Dobbiamo prepararci all'arrivo della grande torta, cioè il PNRR. Si rischia una situazione come quella del dopo terremoto, spiega il procuratore Riello, con la camorra che agisce con nuove figure imprenditoriali di insospettabili al vertice. Riello lancia l'allarme anche sull'aumento delle truffe ai danni dello Stato per il reddito di cittadinanza, 174 casi nel 2020, ben 589 nel 2021.